Grazie a tutti. A cura di Perseo, edito dalla Erga. In questo libro troverete uno spazio dedicato al nostro cantautore Meg Ross e la sua concezione sulla New Age. Parlando di New Age, quest'oggi abbiamo inserito nel bellissimo brano di Meg Ross un intervento Tai Chi. Il Tai Chi è un'arte marziale cinese molto antica. Quella che avete visto è la forma Chen, che è la forma più antica e marziale. Quindi è un'arte che si è evoluta poi adesso nel presente anche come disciplina per la cura della salute. Quindi unisce l'arte marziale e la cura della salute. Grazie. 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 Grazie.